Un gran bel traguardo che mi rende orgogliosa e felice perché dimostra quando c'è una bella collaborazione tra amministrazione, volontariato, associazione, chiesa che porta questa grande sinergia sempre ad ottimi risultati e noi affiancheremo sempre quando ci sono eventi come questi perché mirano al bene comune, infatti l'obiettivo e la finalità di questo progetto della Casa della Befana è ben preciso, che è quello di recuperare una tradizione tutta italiana e soprattutto condividere con tutti i bambini questa giornata, una giornata che poi crea un ponte d'amore tra bambini e anziani, cosa che nell'ultimo periodo purtroppo si sta perdendo. Inoltre è un progetto che mira soprattutto sulla solidarietà, solidarietà infatti vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà a far trascorrere ai loro bambini una giornata all'insegna dello svago, della spensieratezza e poi è un progetto che è bellissimo perché è un bene comune di condivisione, richiama tutti i bambini provenienti non solo dai paesi limitrofi ma anche da altri paesi più lontani e questo appunto crea quella condivisione tra tante città insieme ai nostri bambini. Quindi io inviterei tutti a venire nella nostra città il 6 gennaio a trascorrere una bellissima giornata all'insegna della condivisione e della serenità. Il programma nostro è quello sempre comunque di dare voce a quelle persone meno ambienti e quindi l'obiettivo è quello di portare un sorriso anche in questi bambini e queste persone. Quest'anno andremo a Tre Puzzi al centro Baco dove ci saranno questi ospiti di persone grandi e meno grandi e quindi porteremo anche lì un sorriso. Andremo il 5 di gennaio. Poi la cosa importante mi sento orgogliosamente che quest'anno ospitiamo un grande artista di fama internazionale come Antonio Maggio vincitore del 2013 come Sanremo giovani e nel 2020 ha cantato insieme ad una cantante molto importante vittima di femminicidio. Anche questo è un punto che noi ci teniamo molto. Don Giuseppe la vera Befana abita a Monteroni perché dopo siete stati imitati? Beh devo dire con grande soddisfazione dove c'è l'imitazione vuol dire che qualcuno segue le tue idee. Noi nella casa della Befana abbiamo l'originalità della sua storia, non a caso abbiamo tutte le foto dal 1857 fino all'ultima Befana e abbiamo anche un repertorio storico nella casa della Befana dove addirittura la Befana di Monteroni un anno ha ospitato anche Babbo Natale perché Babbo Natale non trovava la sua residenza. Quindi siamo orgogliosi perché quest'anno siamo arrivati alla decima edizione della casa della Befana e questo significa che le sinergie tra l'amministrazione, le parrocchie, il volontariato e l'associazionismo nella nostra città di Monteroni con la casa della Befana funziona e fin tanto le cose funzionano. Che cosa dire? Vive la Befana e viva i nostri ragazzi e vi aspettiamo tutti quanti il 6 gennaio per vivere questa giornata bella, intensa e piena di tante iniziative. Presidente del Consiglio Sandra Manca, quindi la Befana abita a Monteroni e voi siete felici di aver festeggiato con lei i primi dieci anni? Certo, siamo felicissimi e orgogliosi soprattutto. Chi di noi non ha sognato il 5 gennaio mettendo la calzina sotto al camino aspettando le caramelle e possibilmente non il carbone, no? La mattina del 6. Quindi invito tutti a partecipare a questo bellissimo evento che ci riporta indietro e che fa vivere alle nuove generazioni anche la leggenda della Befana, della vecchietta che arriva con la sua scopa a fare doni a tutti coloro che vogliono accoglierla. Come la settimana enigmistica la Befana di Monteroni vede tantissime imitazioni, ma la vera Befana è a Monteroni. La vera casa della Befana è proprio in via Oronza Epifani. Monteroni ce l'abbiamo, è una via riconosciuta, è una via in cui abita la vera Befana. Noi diremmo diffidate delle imitazioni perché è un po' come il fenomeno del Babbo Natale, la casa del Babbo Natale è un po' dovunque e anche la casa della Befana abbiamo visto che ormai è un fenomeno che si sta riproponendo in tutti i paesi del Salento. Però poi fondamentalmente non ci dispiace questo, anzi ci rende ancora più orgogliosi perché dopo dieci anni vediamo che gli altri prendono la nostra stessa strada, vuol dire che hanno riconosciuto in questo progetto un alto valore. Valore del recupero delle tradizioni come abbiamo detto tante volte, il valore della necessità proprio di andare a riprendere quei ricordi degli adulti anche perché appunto il programma che noi proponiamo non è un programma rivolto solo ed esclusivamente ai bambini, ma è un programma rivolto anche agli adulti, tant'è che la sera del 6 gennaio ci sarà un'intervista concerto con un grande testimonial e la consegna appunto del premio Solidarietà e quello è un aspetto, un punto del programma dedicato principalmente proprio agli adulti perché il nostro intento è anche far ritrovare dentro noi che siamo ormai più grandi quelli che sono i veri valori. La Befana è sempre stato simbolo di povertà, di umiltà e quelle sono forse le caratteristiche che dovremmo ritrovare dentro ognuno di noi, religiosi e nonno, perché non parliamo per forza di andare a proporre un qualcosa che sia strettamente legato alla religiosità, è un qualcosa che fa parte del nostro territorio, delle nostre tradizioni, è qualcosa che sicuramente va bene riproporre partendo dal più piccolo bambino e andando quindi al nonno, alla nonna che ci raccontano cosa succedeva poi in quegli anni quando veramente la tradizione della Befana era rivissuta, era vissuta con il cuore e quello che a Montaloni succede ormai da dieci anni a questa parte, si vive veramente la Befana con i veri valori e quello che vogliamo, ci auguriamo che poi venga tramandato come già abbiamo visto sta succedendo in tutti i paesi dell'Interlanda Salentino e non solo, perché no? Perché la Befana è poi una di di quei personaggi che è conosciuto in tutto il mondo al pari del Babbo Natale, come diceva il nostro Don Giuseppe, la Befana ospita anche il Babbo Natale, è successo in passato, per cui sicuramente quello che potrà avere come risonanza per il nostro territorio potrà andare oltre quello che è il territorio regionale e anche nazionale, volendo. Grandi messaggi di solidarietà, grandi testimonial per questo e grandi riconoscimenti dal Papa Francesco, avremo con noi anche il Monsignor Seccia, il nostro Vescovo, per cui veramente l'augurio è che tutti possano far tesoro di questi valori, di questo messaggio e che tutti vengano a Monteroni il 5 e il 6 gennaio per la Casa della Befana. Grazie. Grazie a voi.